buongiorno mi sono svegliato da tipo un'oretta e tra l'altro sfiga di oggi ho finito il caffè quindi sono anche mezzo addormentato comunque sono le 8 e già diciamo che ho tutto pronto e mi metto subito a studiare cominciamo sessione estiva caldo dobbiamo studiare stress stanchezza ancora caldo è un periodo complicato per un po tutti noi studenti universitari e forse il periodo dell'anno che odio di più proprio per il caldo e personalmente sono già in sessione estiva perché questa settimana ho già i primi due esami che sono macroeconomia che ho di giovedì ed econometria che ho il venerdì questa cosa la odio non so voi ma il fatto di dover memorizzare e avere in testa due esami contemporaneamente mi stressa mi stanca e in più devo anche prepararmi al viaggio che farò lunedì perché lunedì tornerò in sicilia e quindi devo organizzarmi con le valigie con le cose è un casino questa settimana sarà veramente devastante e adesso invece vado in chiamata con un mio collega a ripetere econometria ed è un ottimo modo per ripassare fare esercizi risolvere qualche dubbio comunque è sempre piacevole studiare in compagnia e adesso che ho finito di studiare tocca fare la live su youtube perché il lunedì da un po di tempo a questa parte faccio delle live su youtube intorno alle 18 e 30 19 dove si chiacchiera dove si parla di un po di cose risponde alle domande è bello perché ho anche un modo per interagire più direttamente con voi cuffie microfono qua sono io in live e tra due minuti comincio finito anche macroeconomia per oggi in realtà ho finito presto perché non ho fatto più di tanto ho ripassato un po le lacune le incertezze ed è tutto ok e adesso sono le 18 e posso finalmente riposarmi staccare totalmente dallo studio almeno per oggi ho cenato ho lavato i piatti e adesso sono sul divano mi rilasso un po' guarderò gli europei o anche qualcosa su netflix ora capisco e cerco comunque sì di rilassarmi però vorrei anche andare a letto più o meno presto così riesco anche a riposare per bene buongiorno si scusatemi la canotta fa caldo oggi già siamo a mercoledì domani c'è il primo esame e adesso mi tocca iniziare il ripassone finale e non lo so sia ieri sera che un po' questa mattina mi è venuto un po' d'ansia un po' di preoccupazione e questa sensazione qua mi è capitata altre volte prima di un esame e ho la sensazione come se io fossi proiettato al giorno al momento dell'esame e mentre sto facendo l'esame mi blocco mi paralizzo non ragiono più mi confondo e anche se sono super preparato non riesco a fare niente perché ho la mente offuscata non ho neanche il pieno controllo delle mie azioni e resto lì bloccato impanicato impaurito posso farcela e non accadrà questa cosa però la mia mente ogni tanto ci pensa e cercherò di ignorarla comunque come programma per oggi ho quello di fare un ripassone di econometria in mattinata e di completarlo e poi non toccare più econometria comunque dai mi metto al lavoro finito di ripassare econometria adesso basta non la tocco più la mia testa sta esplodendo di econometria e per quanto riguarda il ripassone di macro ho intenzione di fare una mega esercitazione dove faccio tutte le tipologie di esercizi e nel mentre commento anche la teoria associata allora per questa mattina ho finito di studiare sono a metà del ripasso di macro lo riprendo di pomeriggio ma adesso vado in palestra allora sono tornato dalla palestra mi sono fatto la doccia e sono molto soddisfatto del mio allenamento mi ha aiutato a scaricare la tensione stress tutta la stanchezza che ho accumulato dallo studio e quindi mi ha fatto bene allenarmi ora mi sto preparando un pranzetto e poi dopo riprendo a studiare caffettino e ricomincio a fare macroeconomia e adesso voglio fare un ripassone di teoria generale dove copro tutti gli argomenti e per farlo lo farò in compagnia dei miei colleghi così ripassiamo assieme magari c'è qualche dubbio, qualche incertezza e riusciamo assieme a risolverla quindi farò un ripassone in compagnia che male non fa anzi magari rende la cosa meno noiosa ho finito di ripetere macroeconomia sono tranquillo, sicuro di me stesso, di quello che so, di quello che ho fatto tra l'altro l'esame ce l'ho domani alle 17 e quindi ho tutta la mattina tra virgolette libera o comunque devo trovare un modo per ingannare il tempo e comunque l'esame è a crocette ci sono gli esercizi però hai le risposte con le crocette detto questo sono le 19.30 e sto andando in cucina a prepararmi qualcosa per cena comunque la serata la sto passando rilassato sul divano per guardare le partite dell'europeo e se riesco vado anche a letto presto già siamo a giovedì sembra volato il tempo e oggi primo esame questo pomeriggio non so, forse un po' di ansietta non lo so, forse è un'emozione sento qualcosina allo stomaco allora, il piano per oggi è quello di fare un mini ripasso di massimo un'ora e poi di uscire anche perché l'esame ce l'ho alle 17 e devo trovare anche un modo per ingannare il tempo ho finito il ripassone sento un po' anche di emozione fate conto che sono andato in bagno tre volte ogni volta che ho esami mi viene di andare 18 volte in bagno però ho ripassato devo stare tranquillo e adesso il mio unico obiettivo è rilassarmi in modo tale da arrivare concentrato e riposato all'esame di questo pomeriggio ho fatto una passeggiatina ho comprato un po' di cose ho fatto un po' di shopping e ora sto tornando a casa tra l'altro c'è anche un po' di fame allora, sono le quattro ho mangiato ho preso il caffè e adesso sto aspettando che arrivino le cinque per poter cominciare l'esame e a livello di ansia e preoccupazione sono veramente ok sono tranquillo l'unica cosa è che sto un po' spazientando perché non vedo l'ora che passi quest'ora e cominci l'esame e quindi non so devo semplicemente aspettare però vorrei che l'esame cominciasse subito così mi tolga il pensiero postazione pronta e adesso vado a mettermi qualcosa di più decente che una canottiera magari metto una magliettina più normale e nulla auguratemi buona fortuna ci vediamo dopo l'esame finito sono stanco morto stanco stanco e in più anche accaldato e l'esame penso sia andato decentemente di solito per scaramanzia non mi esprimo aspetta il voto e via quello che posso dire è che sicuro ho fatto 14 punti su 30 poi il resto delle risposte non le voglio controllare mi basta un attimo aspettare il risultato e adesso mica mi posso fermare cioè nel senso farò una piccola pausa perché sono stanco però poi devo fare un'oretta di ripasso per l'esame di domani di econometria buongiorno siamo arrivati a venerdì non so neanche come e adesso questa mattina ho l'ultimo esame della settimana e dovrei iniziare alle 9 sono le 7.45 quindi ancora un po' di tempo e l'esame è diviso in due parti c'è lo scritto che dura 70 minuti e poi c'è un orale breve obbligatorio che facciamo tutti comunque tra 5 minuti comincia l'esame quindi vabbè ci vediamo dopo esame finito di solito per scaramanzia non mi pronuncio però penso sia andato abbastanza bene speriamo di prendere un buon voto e adesso però mica mi fermo devo andare a fare la spesa e poi vado anche in palestra inganniamo un po' il tempo che manca allora dopo pranzo mi sono messo un attimo a ripassare alcune definizioni di teoria e per adesso sto guardando gli altri esami e tra tipo un quarto d'ora dovrebbe toccare a me e niente dai speriamo bene comunque l'orale vale soltanto due punti però ci tengo anche a fare bene questa piccola parte perché comunque sono sempre due punti in più orale è finito sono stanco abbastanza cotto perché sono due giorni che mi stresso per gli esami e basta è finita almeno si spera aspettando i risultati e gli esiti finalmente è finito questo tour de force di due giorni due esami poi c'è pure scritto più orale che casino e quindi sono contento che è finita allora siamo già sabato pomeriggio tra l'altro e oggi ho deciso di prendermi una giornata totale di relax o comunque di distacco dallo studio perché dopo due settimane che studio per la preparazione di questi esami intensamente senza una pausa oggi ho deciso di fermarmi e poi ripartire un po' da domani poi dopo pranzo sono collassato sul divano per una mezz'oretta mi sono fatto un caffè che mi ha aiutato a riprendermi e adesso finita questa clip devo registrare un video per questo canale youtube e sarà l'ultimo video in questa casa prima della mia partenza in Sicilia quindi l'ultimo video con questo sfondo almeno per questa stagione estiva microfono con l'asta poi qui c'ho la camera postazione dove mi siedo qua c'è l'acqua il pc dove ho lo script del video e niente io poi metto così ho il microfono che punta direttamente davanti alla mia bocca così capta bene tutto quello che dico e cominciamo a registrare speriamo di non morire di caldo perché adesso devo chiudere la finestra ultimo mio giorno a Milano è domenica domani parto e devo fare tutta la valigia sistemare casa buttare la spazzatura è un po' una giornata incasinata piena di faccende di casa e già sono le nove e mezza mi sono messo al lavoro sto facendo un minimo di valigia sto piegando un po' di vestiti capendo cosa portare cosa no per farvi capire un po' il casino che c'è qua questa è la valigia poi qui c'è un po' di vestiti mutande robe per la palestra mascherine adesso torno a studiare dopo il mio giorno di pausa comunque tra dieci giorni ho un altro esame e speriamo sia l'ultimo aspettando gli esiti dei due che ho dato e quindi devo iniziare a darmi da fare oggi non farò tantissimo farò un'oretta però voglio un attimo iniziare a capire come studiare se ho preso per bene gli appunti se devo sistemare qualcosa allora siamo già a metà pomeriggio fondamentalmente mi sono messo a pulire tutta la cucina ho sistemato tutti i piatti ho raccolto tutta l'immondizia ho svuotato e ripulito per bene il frigo che lavoraccio e in più col caldo si suda pure quindi è abbastanza stancante questa è un po' la situazione valigia comunque mi sono cambiato perché anzi sono in realtà super in ritardo devo uscire vado a fare un aperitivo con dei miei amici che appunto parte quindi ci salutiamo e poi vado anche a mangiare fuori visto che ho già sistemato e pulito tutta la cucina e non mi va di risporcare mangio fuori e così mi sbrigo sono tornato a casa sono anche un po' stanco e infatti mi sono addormentato un attimo sul divano la settimana finisce qua è stata una settimana intensa piena di cose mi sono dovuto organizzare per questa partenza ho avuto due esami e spero di essere stato bravo a portarvi con me spero che il video vi sia piaciuto e niente vi ringrazio tantissimo dalla visione e ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti